Amici di Noi Bianco Celesti, bene ritrovati, come sempre il giorno dopo la partita arriva il mio video di analisi ma prima di parlare di questo Lazio-Verona io vi invito ad iscrivervi al canale di Noi Bianco Celesti mettere mi piace a questo video, commentarlo se siete d'accordo con la mia opinione e mi raccomando sono attivi gli abbonamenti, quindi abbonatevi Lazio-Verona, una vittoria, tre punti, era quella che serviva per inseguire l'Europa poi vedremo quale tipo di Europa e comunque per mettere anche un margine di distanza da quelle che ci inseguono che sono Napoli e Fiorentina e nel tentativo, nella speranza che magari davanti rallentino un po' la corsa serviva una vittoria, è arrivata anche in maniera convincente questa forse è la cosa, non dico più importante perché a poche giornate dalla fine la cosa più importante sono i punti però è un buon biglietto da visita sia per quanto riguarda questo finale di stagione ma magari anche per quella che sarà la prossima stagione ci sono state delle indicazioni, ci sono state secondo me delle scelte da parte di Tudor e quindi da questo punto di vista possiamo andarle a commentare anche in maniera positiva e negativa partiamo forse dalla nota meno lieta, ecco questo esperimento di Saxen a tutta fascia sulla destra secondo me non ha portato i frutti sperati si vede che il giocatore ecco non è proprio a suo agio in quel ruolo, si è applicato ha avuto anche sui suoi piedi nel primo tempo un paio di situazioni su cui poteva fare meglio però quello che manca secondo me è un po' di personalità quando il pallone tra i piedi un paio di situazioni ecco si è limitato a scaricare il pallone indietro quando ha potuto puntare l'uomo ecco non è mai riuscito a saltarlo in velocità e diciamo che la manovra da quel punto di vista ne ha risentito perché poi dall'altra parte c'è Marusic che fa un po' di equilibratore ha dei meccanismi migliori con Luis Alberto ed è arrivato più spesso diciamo in zona pericolosa lui da quest'altra parte ha avuto più difficoltà ecco chiaro però che non è il suo ruolo e bisogna comunque ecco vederlo adattato spero che nella prossima stagione lo possa giocare nel suo ruolo preferito magari che nei due dietro l'attaccante avendo magari ecco un rendimento decisamente superiore rispetto a quello di ieri note positive sicuramente ecco per me il migliore in campo è stato Kamada una gara importante da tutte e due le parti del campo perché è stato decisivo in fase difensiva perché ha recuperato tantissimi palloni su delle ripartenze che potevano essere pericolose da parte del Verona ha coperto tante zone di campo e poi alla fine si è fatto vedere anche in zona d'attacco perché poi ha servito un assist d'oro per Pedro che non è riuscito a sfruttare è arrivato in zona pericolosa almeno tre o quattro volte mettendo dei palloni in mezzo poi sono nati di calci d'angolo e delle situazioni in cui la Lazio manca un po' di incisività però sicuramente si sta dimostrando un giocatore box to box ecco grande corsa, grande gamba chiaro che non è il giocatore adatto per le caratteristiche che aveva il centrocampo di Sarri in questo centrocampo, seppur in una posizione più abbassata, sta dando dei buoni frutti insieme ovviamente a Gendusi, io nella Vagella ho scritto che ce ne erano due in campo perché veramente l'ho visto dappertutto e questa coppia centrale secondo me è stata un po' la chiave della partita che ha permesso la Lazio di vincerla insieme poi all'innesto di Zaccagni poi è chiaro che noi possiamo sbatterci quanto vogliamo con schemi, moduli, interpretazioni tattiche e poi però la differenza la fa la qualità dei giocatori non è un caso che poi l'ingresso di Zaccagni ha portato a far sì che l'attaccante fresco di rinnovo poi andasse a rubare il pallone, si è fatto vedere in progressione Luisa Alberto gli ha dato una bella palla in profondità in area di rigore e lui ha segnato un bel gol ecco, è chiaro che gli schemi vanno bene e tutto però la differenza della qualità è talmente ampia rispetto ai suoi predecessori che comunque Zaccagni è un elemento imprescindibile per questa squadra poi bisogna vedere in che ruolo perché lui lo sta facendo da esterno che poi quando gioca lui diventa la squadra si fa 4-4-1-1 ecco non è proprio una difesa a tre perché da quella parte a un certo punto c'era Marosic che scalava e faceva quasi il terzino quindi diciamo un modulo un po' ibrido un po' più lontano dalla porta però abbiamo visto come lui riesce a coprire tanto campo e quindi riesce ad arrivare anche ad essere pericoloso per quanto riguarda l'andamento della partita posso dire che il primo tempo non mi è piaciuto squadra sì sempre in controllo è chiaro che però l'atteggiamento del Verona era un atteggiamento totalmente passivo una squadra che si veniva ad aggredire però all'interno della loro metà campo e non è mai ripartita se non in un paio di situazioni c'è stata forse secondo me un po' troppo poco ritmo la palla ha girato poca circolazione del pallone in maniera troppo lenta e quindi secondo me il primo tempo è scivolato via e poi alla fine a parte un tiro di Saxe e qualche situazione non abbiamo creato più di tanto poi nel secondo tempo con il Verona che secondo me è calato fisicamente le squadre che si sono allungate irrimediabilmente come accade nel secondo tempo perché comunque le distanze a posto di filacciano la partita si è aperta e lì la Lazio ha creato almeno 3-4 presupposti per segnare ma in maniera abbastanza clamorosa due pali uno di Pedro su calcio di punizione ma uno terrificante di Felipe Anderson sui sviluppi di calcio d'angolo in calcio di punizione se non ricordo poi un'occasione clamorosa per Pedro un'altra buonissima occasione per Castellanos un'altra occasione secondo me clamorosa perché poi da lì Luis Alberto dal limite dell'area di cuore senza essere marcato con il portiere fuori posizione non è riuscito a prendere la porta ecco lì un po' le scatole mi sono girate però ecco queste sono state quelle quattro occasioni clamorose poi c'è stato anche il gol quindi ecco un risultato meritato e poi anche una gestione sicuramente positiva dopo la rete perché la Lazio non si è rintanata ha continuato ad aggredire e ci sono stati presupposti per segnare altre reti ma poi alla fine la Lazio ha gestito bene tranne che nell'ultimo tentativo in cui ci siamo fatti trovare impreparati e lì per fortuna che Henry non ha avuto la gamba giusta e poi ecco da segnalare per la vittoria che è quella che poi è l'unica vera occasione del Verona dopo il nostro vantaggio quella sugli sviluppi di quel calcio di punizione in cui la palla sbuga e arriva se non ricordo male a Coppola o Magnani e lì Mandas fa veramente un miracolo ecco perché se la ritrova addosso lì distinto la riesce ad alzare poi una gran parata ecco che va a riscattare e compensare l'errore nel primo tempo in cui lì è uscito secondo me in maniera totalmente errata su un pallone innocuo perché poi alla fine Noslin lo avrebbe appoggiato di testa ma non c'era grande possibilità per i giocatori del Verona di essere pericolosi invece lui poi ha lasciato sguarnita la porta tant'è vero che il tap-in poi credo sia stato di Duda o di un altro giocatore comunque è finito di Svidieschi è finito fuori però quella era una situazione in cui Mandas doveva e poteva fare meglio anche se poi alla fine ha salvato il risultato andando un po' a gestire ecco quelle che sono le pagelle chiaro che secondo me peggiore in campo è Pedro che ha dato l'insufficienza perché il gol mangiato secondo me è troppo troppo grave ecco c'era una situazione in cui lui è entrato da poco poteva anche gestire quella palla con maggior qualità poteva e doveva concentrare la porta poi magari la parano però lì tu devi prendere la porta non puoi tirare il pallone fuori è chiaro che poi le altre prestazioni sono state positive Casale un po' meno anche se poi alla fine il Verona non è che ha fatto chissà che e poi Zaccagni, Camada, i migliori in campo insieme a Gendusi Luis Alberto perché poi Luis Alberto con l'assist va a compensare quegli errori che secondo me aveva commesso nel primo tempo ed anche inizio ripresa con un paio di palloni sbagliati però poi da Luis Alberto ci si attende sempre qualcosa in più ecco quindi è chiaro che quegli sono errori che ci stanno magari per altri giocatori da lui ci aspettiamo qualcosa in più e che il giudizio a volte viene reso un po' più severo dal fatto che noi sappiamo quanto può dare questo giocatore a intermittenza Castellanos e mi devo ripetere su questo giocatore è un attaccante molto utile alla squadra che sinceramente è incomiabile per atteggiamento per voglia di combattere e tutto quanto il resto però deve capire che in Italia ma soprattutto in questo momento la Lazio serve qualcuno che punti a fare gol che guardi la porta e lui mi sembra un po' avulso da questa situazione perché lui si sbatte l'ho visto anche venire incontro fare una fase difensiva rubare pallone a centrocampo a un certo punto poi ha servito Luis Alberto con Arrabona facendo capire che comunque tecnicamente è un giocatore valido però poi alla fine quando è in area di rigore ecco non riesce mai a puntare la porta non riesce mai a fare tranne che la partita con la Juventus in cui l'abbiamo visto veramente concentrato e puntare la porta ma poi forse dipende anche dal fatto che era una partita in cui non è che si potevano attendere più di tanto e quindi bisognava andare e ha fatto due grandi gol e si è creato anche in un'altra occasione che ha asciuvato in questa è riuscito a tirare in porta una sola volta e poi quando tu giochi in casa con Salernitana e Verona e non riesci quasi mai a tirare in porta ecco io credo che c'è un lavoro ancora da fare su questo calciatore ecco è un calciatore sicuramente valido dal punto di vista tecnico non mi sembra ancora abbia capito cosa serve in Italia e cosa serve in questo momento la Lazio anche se l'atteggiamento non gli possiamo dire nulla gli ho messo anche se è mezzo però mi lascia sempre quel dubbio sul fatto che abbiamo capito che non è un bomber ma abbiamo capito che non è nemmeno un giocatore che gioca per il gol è una sorta di assist man a cui piace fare le sfonde e quant'altro però ragazzi in area di rigore comunque se giochi con una punta devi puntare la Lazio devi puntare anche a fare gol a un certo punto quando giochi contro queste squadre te le devi fregare devi fare movimenti in attacco finalizzati proprio a segnare ecco non sempre venire incontro per fare la sponda per il resto è chiaro che le note positive vengono soprattutto dal recupero di Zaccagni e dall'impermeabilità difensiva perché abbiamo visto ecco la squadra per la seconda gara consecutiva non prendere gol concedere poco come aveva concesso poco anche a Juventus e Genoa ecco perché poi alla fine Lazio ultimamente sta concedendo poco il problema ecco che finalizziamo proprio che l'attacco però la prestazione è stata certamente più che positiva Tudor Tudor è chiaro che sta in fase di sperimentazione lo fa capire anche un po' come sono stati gestiti i cambi come le posizioni la posizione nuova di Saxen quando è tornato a un certo punto Zaccagni ha messo Felipe Anderson largo ha messo Pedro insomma la Lazio completamente attrazione offensiva sono tutti tentativi ecco di trovare un'alchimia giusta che però per fortuna sono supportati da dei risultati in questo momento convincenti e anche da prestazioni che lentamente stanno migliorando la qualità del gioco della squadra ecco per questo video è tutto io prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al canale di No Bianco Celesti mettere like a questo video e commentarlo ditemi la vostra e mi raccomando abbonatevi oggi domenica mattina ci siamo svegliati con il sorriso la Lazio ha vinto e quindi io finisco il mio video con il mio solito forza Lazio grazie a tutti